5 mesi di spettacoli da giugno a novembre, 20 progetti di teatro, musica e danza. Presentata questa mattina a Palazzo Cavalcanti, la terza edizione di Affabulazione, un'agenda culturale organizzata dal Comune di Napoli e finanziata col Fondo Nazionale dello Spettacolo. Si sta dando sempre di più grande spazio anche ai giovani e poi ci sono anche delle soddisfazioni legate alle precedenti edizioni, abbiamo addirittura uno spettacolo che verrà portato in Giappone, Le quattro morti di Pasolini, ci sta un grande sviluppo, un grande fermento culturale ma anche proprio di industria culturale, proprio grazie anche a questi investimenti che il Ministero e il Comune fanno sulla creatività. Affabulazione si apre con un laboratorio per attori diretto da David Petrarca, uno dei registi del Trono di Spade, su un testo teatrale di John Ford. L'esito finale, sabato 15 giugno a Pianura. Siamo molto affascinati dall'opera di John Ford che pur essendo molto antica tratta di una questione molto attuale, l'idea che fatti e bugie possano essere la stessa cosa. Viviamo in un periodo in cui questo è esattamente ciò con cui abbiamo a che fare. All'epoca si trattava di pettegolezzo, oggi di internet, di fake news, di tutte queste espressioni che abbiamo imparato a conoscere. In un modo originale, quello che Ford stava facendo attraverso un viaggio personale ed emotivo sull'amore era dimostrare come nell'opera questa donna sia molto casta ma venga accusata di non esserlo, di essere un'adultera. Personalmente non sono interessato a fare un lavoro teatrale o qualsiasi altra cosa che non abbia una qualche attinenza col tempo in cui viviamo. John Ford arriva o ritorna a Napoli con questo progetto e per questa regia che avrà come primo protagonista David Petrarca abbiamo curato una nuova traduzione dal testo del Seicento e abbiamo optato per una traduzione molto più spumeggiante, forte, vivace, ultracontemporanea per dare senso appunto a questa vicenda che poi tra l'altro è una vicenda inglese che va a Pavia ma che ha dentro di sé tantissime cose della Napoli di Gesualdo del Seicento. Fra gli eventi di spicco la messa in scena della produzione internazionale Figaro sulla ruota del Criceto nell'anfiteatro del centro direzionale. Lo vedremo sia nella versione originale che è quella che appunto ha dato la prima mondiale al testo del Gerhard Tautman teatro di Gerlitz sia in una reading scenico in una mise en espace italiana che ne ricostruisce proprio a beneficio del pubblico napoletano la complessità perché è un testo scritto in italiano in italiano regionale, in tedesco e in lingua napoletana. La rassegna a fabulazione si svolgerà al di fuori del centro cittadino nelle municipalità quarta, sesta, settima, ottava, nona e decima. Coinvolge nell'ottica del policentrismo quelle che sono le realtà che una volta venivano chiamate periferiche ma che nella visione del sindaco Manfredi sono i nuovi centri della città. Cultura diffusa sul territorio che noi cerchiamo di incrementare, cerchiamo di portare avanti sempre aumentando l'offerta, tenendola alta e conciliando l'interesse di tutti.